Bramiar Conte nella sua conferenza stampa ha dato nuove disposizioni ma poche soluzioni. Cito ad esempio il problema che avremo come genitori, come famiglie, perché il 4 maggio riapriranno le attività produttive e i genitori non sapranno a chi lasciare i propri figli. Tutti gli operatori economici si aspettavano indicazioni chiare, anche noi amministratori. Indicazioni per riaperture più che per semplici chiusure che danneggiano, hanno danneggiato forse irreparabilmente il commercio, l'artigianato e l'industria 90. Così non va. La Lega Vicentina si schiera a fianco dei sindici e assessori del territorio in prima fila a combattere il virus con armi spuntate, a districarsi tra decreti governativi da interpretare di non sempre facile applicazione. Molte le cose, secondo la Lega, da rivedere. Parlo del Fondo di Solidarità Comunale che il prossimo anno evidentemente dovrà avere dei criteri totalmente differenti per favorire i nostri comuni, quelli che hanno combattuto più di tutti il tema del coronavirus. Parlo anche del tema del Fondo Alimentare, criteri che premiano chiaramente comuni del sud meno virtuosi dei nostri e che mettono in difficoltà, in seria difficoltà i cittadini, i primi cittadini. Le amministrazioni comunali del Governo attendono risposte in tema di trasporto pubblico. Oggi la perdita a livello regionale si stima in 200 milioni di euro, ma anche sul fronte ai lavori pubblici dove serve abbattere la burocrazia per poter ripartire. Come è partito anche su indicazioni di Salvini, stiamo raccogliendo quelle che sono le necessità per poterle poi portare in Parlamento, per evitare evidentemente delle proteste nella speranza però che il Parlamento torni ad essere centrale.